Come si fa la micro raccolta? Segui questi passaggi. A. Compila un documento che si chiama Piano Operativo Semplificato. Il format lo puoi trovare presso le Ausl o sui siti istituzionali delle Ausl. Per qualsiasi dubbio puoi contattare l'Ausl di riferimento. B. Consegna all'Ausl il Piano Operativo Semplificato in uno di questi modi. C. In cartaceo. Stampane quattro copie. Una copia rimane all'Ausl e tre copie ti verranno riconsegnate timbrate. Tramite PEC o mail. Stampa e tieni tre copie della ricevuta di consegna della mail o della PEC unitamente al Piano Operativo Semplificato. C. Acquista il kit per la rimozione dell'amianto che ti permette di rimuovere in sicurezza il materiale. Puoi trovarlo nelle ferramenta o nei negozi specializzati. Oppure puoi acquistarlo online. D. Contatta il gestore che nel tuo comune si occupa della raccolta dei rifiuti per concordare le modalità e le tempistiche di confezionamento e di ritiro del materiale. E. Rimuovi e confeziona i rifiuti utilizzando il kit e segui le indicazioni che ti ha fornito il gestore per il confezionamento del materiale. Durante le lavorazioni deve essere interdetto l'accesso ad estranei. F. Posiziona il materiale confezionato in un punto facilmente accessibile per le operazioni di carico. Al momento del ritiro, fai compilare e firmare al gestore le tre copie del Piano Operativo Semplificato. Il gestore te ne lascerà due. G. Conserva una copia per te e l'altra inviala all'Ausl entro un mese. G. Conserva una copia per te e l'altra inviala all'Ausl entro un mese. Grazie a tutti.